Ciao a tutti da Vittorio, la cessione di Milikovic è sicuramente una cessione dolorosa per i tifosi ma necessaria per le casse bianco celesti e adesso la Lazio si trova davanti con una grande possibilità con una grande opportunità che però deve sfruttare appieno perché con le cessioni la Lazio ha incassato qualcosa come 50 milioni di euro, altri 50 sono arrivati dalla qualificazione in Champions League la Lazio si trova con un tesoretto da 100 milioni di euro. 100 milioni da spendere sul mercato? No, non proprio perché l'ultimo bilancio ha visto la Lazio chiudere con 22 milioni di rosso quindi una parte di questi 100 milioni saranno sicuramente utilizzati per aggiustare il bilancio. La Lazio non è gestita da arabi, non ha sceicchi dietro, è autogestita e quindi non può permettersi buchi di bilancio come quelli di altri club italiani e per questo si deve autofinanziare. Ovviamente il calciomercato, soprattutto per le squadre italiane, è fondamentale per questa cosa. Ma un'altra cosa importantissima della cessione di Milikovic è il monte stipendi perché la Lazio negli ultimi anni ha raggiunto il suo massimo per gli stipendi, tant'è che gli ultimi bilanci biancocelesti erano finiti in rosso. La cifra pagata per i stipendi della Lazio era troppo alta per il club biancoceleste che ha dei ricavi molto bassi e nonostante i ricavi siano cresciuti i stipendi erano cresciuti molto di più. Con le ultime cessioni di Acerbi, di Milikovic, di Gioni e di Escalante la Lazio ha tolto qualcosa come 20 milioni di euro in stipendi. Ed è una cifra consistente, una cifra molto importante. Cifra che ovviamente non rimarrà così perché la Lazio deve prendere altri giocatori, la Rosa così non è sufficiente. Ma anche per questo motivo secondo me Zelinski non è il giocatore adatto alla Lazio. Sia per motivi di equilibrio tattico, penso che con Zelinski il centrocampo biancocelesti sia troppo scoperto sia anche per problemi economici. Zelinski 29 anni è un buon giocatore, non mi fraintendete, ma la Lazio non dovrebbe andare su profili del genere. Perché? Perché Zelinski a 29 anni sta andando a prendere il suo ultimo grande stipendio e quindi la Lazio dovrà pagare sia un cartellino importante, si parla 25 milioni di euro, sia uno stipendio molto importante. E poi è un giocatore che non ti puoi rivendere perché a 32 anni quando gli scadrà il cartellino non potrà mai chiedere cifre simili a quelle che l'hai pagata e quindi andrà a perdere e in più avrai sul gruppone uno stipendio importante come quello di Zelinski. No, la Lazio utilizzando i soldi incassati dalle cessioni di Miliki Savic, Acerbi eccetera deve andare a fare una politica completamente diversa, una politica secondo me necessaria per questa Lazio, una politica che può dare anche i suoi frutti, anzi deve dare i suoi frutti anche in campo. Anziché andare a prendere un 29enne la Lazio deve andare a prendere profili giovani. Il problema dei profili giovani è che i cartellini ti costano caro, stiamo vedendo il terzino della Z, chiedono 15 milioni di euro per un giocatore che ha dimostrato poco o nulla, però tu paghi tanto perché a 21 anni ha già giocato in competizione europea, ha già dimostrato il suo talento, fra due o tre anni potrebbe diventare uno dei più forti terzini d'Europa. Ecco, la Lazio deve fare questo, ovvero con i soldi incassati dalla cessione di Miliki Savic andare a prendere due, tre, quattro ragazzi giovani promettenti. Ovviamente il cartellino di questi ragazzi costa tanto perché sono delle promesse e quindi i club vogliono incassare tanto da questa cessione, ma dall'altra parte il vantaggio di prendere giocatori giovani ad esempio al posto di Zelinski è che si paghi tanto il loro cartellino ma i loro stipendi sono molto molto bassi perché i ragazzi di solito prendono di meno di un giocatore affermato come Zelinski. Zelinski partiamo da cifre intorno ai 3 milioni e mezzo, invece giocatori di 21 anni è difficile che prendano sopra il milione. Faccio un esempio, lo scorso anno Lazio ha preso Marcos Antonio, ha già giocato la Champions League e ha già disputato partite importanti, Marcos Antonio ha uno stipendio intorno al milione di euro. Quindi tanto per fare un esempio, con lo stipendio di Miliki Savic che è intorno ai 3 milioni e mezzo, tu potresti prendere tre giovani promettenti pagandoli un milione e cento di stipendio. Capite che per la Lazio sarebbe una soluzione non solo conveniente ma buona per il futuro perché poi l'anno prossimo hai spazio per prendere altri calciatori giovani e con stipendi alla portata. Ecco, la Lazio deve fare questa politica ovvero prendere giocatori interessanti, giovani interessanti, che hanno un futuro che tu puoi far crescere, che fra 2-3 anni possono diventare fortissimi. Già quest'anno possono fare bene ma possono migliorare e crescere fra 2-3 anni diventare molto forti e di interesse internazionale così che tu oggi lo paghi 15 milioni ma fra 3 anni magari lo rivendi a 40 e fai un guadagno e in più non ti blocchi il monte stipendico, stipendi altissimi. Ecco, secondo me la politica che deve fare la Lazio sfruttando i soldi che ha adesso a disposizione è quella di puntare su giovani interessanti. Non sto dicendo giocatori alla Raul Moro che sono delle veri e proprie scommesse ma se tu prendi giocatori forti, giovani e ce ne sono tanti, gli paghi sì il cartellino ma sono giocatori che puoi rivendere fra 2-3 anni che hanno dei stipendi alla portata della Lazio e che possono contribuire in modo importante. Se tu vai a prendere Berardi o Zelinski il problema è che tu paghi tanto il cartellino, dovrai dargli uno stipendio importante ai calciatori e fra 2-3 anni non puoi rivenderli o li devi rivendere a un prezzo molto inferiore perché a 32-33 anni ormai hanno già dato il meglio di sé e quindi difficilmente li riesci a piazzare e in più però gli devi pagare stipendi da superstar cosa che la Lazio non può permettersi di fare. Per cui questa è una grande opportunità per la Lazio, non andiamo a prendere Zelinski, andiamo a prendere un giocatore giovane o un giocatore proveniente per esempio da una squadra inferiore. Pensa all'Udinese, ha tantissimi giocatori giovani l'Udinese e questi giocatori hanno dei stipendi molto più bassi di quelli della media della Lazio. Puoi prendere un buon giocatore l'Udinese ha uno stipendio di un milione di euro, un milione cento. Capite che non è la stessa cosa che pagare 3 milioni e mezzo di stipendo a Zelinski. Tendiamoci, Zelinski è un ottimo giocatore ma la Lazio non può fare quella politica, non può andare a prendere giocatori in lacco gli anni, deve costruire una base di giovani forti che hanno stipendi bassi ma che possono renderti tanto e poi che tu puoi divendere e fare delle plusvalenze importanti perché anche questo è uno degli handicap della Lazio. La Lazio fa fatica a fare plusvalenze ovvero a comprare un giocatore a 10 e a rivenderlo a 30. Con Nikoi Savic ce l'abbiamo fatta ma è stato uno sforzo enorme. La Lazio probabilmente doveva venderlo un anno fa a 80 milioni di euro o due anni fa a 100 anziché aspettare quest'anno però se andiamo a vedere sono pochi i giocatori con cui la Lazio è riuscita a fare plusvalenza anche perché se prendi un giocatore a 28 anni a 31 anni è difficile che qualcuno ti offra molto di più. Se lo prendi a 20 e lo rivendi a 24 e ha fatto bene probabilmente riuscirai a fare anche il doppio di quanto l'hai pagato a 20 anni. Ecco questa è la politica che deve fare la Lazio. Adesso ha i soldi perché ha 80 milioni di euro per fare questo tipo di mercato speriamo che l'Otito inizi a fare così perché altrimenti la Lazio rischia di andare in una situazione di grande difficoltà dal punto di vista economico e poi potrebbero esserci dolori negli anni futuri. Questo ovviamente è il mio giudizio, qual è il tuo? Scrivi un commento qua sotto e noi ci rivediamo dopo con un altro video.